Siamo qua con i registi del film L'Ausilium, La Fede Continua, Angelo Santovito e Guido Passi. Tu Guido sei un tifoso come noi, quindi nasci tifoso e quindi hai seguito un po' tutte le traversie. Cosa ha voluto dire per te poter ricostruire una trama di un film? Ha voluto dire innanzitutto imparare tanto perché ci sono tantissimi aspetti, tantissime storie, tantissimi uomini che pensiamo di conoscere ma forse non conosciamo così bene. Quindi è stato per me da tifoso un approfondimento e una scoperta soprattutto di uomini, di grandi uomini che hanno collaborato tutti dal primo all'ultimo. Grandissimo cuore Davide Pessina, grandissimo cuore Alberto Merlati che forse per tanti vorrà dire poco ma è un personaggio che faremo scoprire sicuramente. Alessandro Abbio per me è stato come intervistare Michael Jordan per me, era il Michael Jordan di quando venivo io qui al palazzetto. Davvero grande, a parte disponibilità, grande cuore, professionalità e soprattutto grande attaccamento all'Auxilium. Passati 20, 30 anni, 40 anni, grandissimo attaccamento a una realtà che da questo film esce forse ancora più forte di quello che pensavamo. È stata quindi un'esperienza anche umanamente forte, vero Angelo? Esattamente, io il basket non lo conoscevo, arrivo dal calcio quindi per me è stata una scoperta e ho visto, ho sentito un ambiente molto bello, piacevole, di persone serie e intelligenti. Sulla trama del film, noi siamo curiosissimi, non avete lasciato trapelare davvero nulla? Posso Guido dire qualcosa oppure è meglio di no, non dico niente? Lo stimolo è partito da Guido che è stata la persona che ha ideato questo film e lo spirito dicevo è partito dal fatto che dall'ultima partita di campionato dello scorso anno dove l'Auxilium si è salvata negli ultimi, per la classifica borsa, ci sono state, ci stava quella partita. La partita è un po' il luogo dove si svolge la storia e quei sette minuti sono l'esempio di come l'Auxilium vive il basket, con quale passione, con quale trasporto e quindi il film sta tutto lì dentro, insomma i personaggi si altereranno tra di loro a seconda dei periodi, dei momenti della storia dell'Auxilium, degli aneddoti, delle storie raccontate e in qualche modo la partita fa da chioccia questa cosa, soprattutto quegli ultimi sette minuti di attesa che sono stati fenomenali perché dalle riprese che sono state fatte si respira un'aria particolare. Mi growl anche non sono stati da chioccia questo processo, tutti diccio che sono statiuatesInfourali Chiuso Dio Dio Da 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 Dio Grazie.